Ciao Soares, prima di arrivare al 2014, tu arrivi prima di arrivare al nostro visitare per donarci un riconteo del quale abbiamo trovato il locale. Questa è la prima parte del suo lavoro che mi ha chiesto, prima di arrivare a lavorare al ricordo dell'occhio e del fatto di facilitare un materiale che ci sono più incidente. Come ti senti a questo caso, come ti senti a questo caso? Abbiamo visto un caso di un accidente per il primo anno, in circa 7 minuti passati a Gesung, a 31 minuti, in una cruzata di Goussi Vah, a Svathatberg Nord, dove i piccoli erano accidenti e una persona gravemente irritata. Simplemente, per caso, io mi chiedi una peticione del Pueblo di Goussi Vah, se qualcuno può guardare la causa di un accidente che succede, il numero di contatto con il Departamento di Tráfico è 8666 137, o 8666 134, e il numero 917, o 108, per noi abbiamo più aclarazioni di qual è il accidente che mi ha fatto. che ti senti a questo caso? Nel momento, in cui non hai la possibilità, semplicemente che un accidente mi ha fatto un accidente e non sa cosa che ti causano nel primo anno, che ti indicano che ti senti il passamento dell'uncora? se è possibile, però nel momento in cui non ci sono un po' bisogno, perché non ci sono capito che ti senti, 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 come ci senti, che ti senti, che ti senti, e il accidente, c'è qualcosa di tipo di tipo di tiro che ti sono rilevante? C'è un accidente, non ho fatto, sono 20 anni di Marthugana di Althostone, anche una dama e un cattolato, non ho fatto per l'inforzamento, quindi non ho fatto per l'hospitalo. In circa 21 minuti, 7 minuti, in Ciro Loroé, a la altura di un hardware, un altro messerato dal, di un palo di luce, sacco e sacco completo, e c'è anche l'acquiettario che c'è acqua elettor, mi c'è un'acquidina e un'anone, e anche l'ambulanza per trasportare le persone per poli. Quindi siamo quasi al momento, due minuti dopo, 7.23, la John F. Kennedy Boulevard aveva anche un'almena che è riuscita, ora che arriva, la comunità è un'interesse riuscita, ma che è riuscita, ma che è riuscita per la poli clinica, per l'aspetto che ho scoperto. L'altro mi c'è un'alcere, che è un piede che c'è, ma che è un piede di muraglia. Un'unica è una che è un'opidolo, e un'altra non è un'acquiettario per le poli per l'observazione. Questa è un'interesse, che è un'interesse, che è un'interesse, la altra è un'interesse, la metà è un'almena, due ceri, e anche un'interesse di muraglia di un caas, e anche un'interesse, è un'interesse di destruir, metri di acqua, e anche un'acquiettario, un'interesse di macchia, formando i pericolini per il traffetto, e un'interesse di acqua elettor, sul cattato da tepa per l'amiglia di servizio, e un'interesse di acqua. Ora abbiamo un'adronice con violenza, più o meno di 2,34, 25 a 1 di merdia, un'interesse di acqua, che non sono messi con la capella, un'interesse di acqua, mi lo so che mi ha obbligato il cliente, che ci ha fatto, e poi ci hanno prenduto, e poi ci ha fatto, Alla prossima è un'auto blanco in direzione. In vista di polizia c'è un cambio di anni tranquillo? In vista di polizia c'è un cambio di anni tranquillo e ci sono solo che c'è un patrullo e anche un vigilante in caia che in questo momento si c'è qualcosa, non può actuar immediatamente.